Lombardia, buongiorno Lombardia, non ve lo spiego, significa che noi speriamo che sia un giorno buono perché sono 27 anni che in questa regione governano le destre e noi contiamo e siamo convinti che questa volta ce la faremo di portare il nostro candidato presidente Maiorino al governo di questa regione e contiamo di avere all'interno della compagine dei consiglieri e delle consigliere di maggioranza tante persone anche della nostra alleanza perché siamo convinte e convinti che è un'alleanza larga come quella nostra che tiene dentro non solo gli storici soggetti di centro-sinistra ma anche il Movimento 5 Stelle per il quale abbiamo tanto insistito perché fosse all'interno di questa coalizione, noi contiamo che di questo campo che in Lombardia per fortuna è largo altrove, ahimè non è altrettanto largo, contiamo di avere un bel pezzo rosso-verde. e quindi